Sì, da connessi morigano le patate, perché... Gerefica! I ragazzi sono amati... Gerefica! 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 No! Sono parola piatta con te! Perché guarda! Gabriele! 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 Guardate! Si passi le! Corre! Colbi! Chiara! Si ritira la mia figlia di fare! E dai cosa devi fare nel mentone! Stori il mentone, perché questo è la mamma! Devi questa finta Ok, allora Mi vale la mia ampia Guarda le mostre della mia ampia Guarda qui Teratitt케 4 e 4? 4, 5! badno! badno! quattro! fat! ma mamma! fai! ma mamma! fai! perché amore mi sei! ah! che amore! fai! mamma! arriva! arriva! fai! 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 Tessi, è andata? si Ho tolto hai ricato la viscola Tessi, ti ha, non è arrivata Tessi, ti ha fatto trucare Tessi, ti ha fatto nessuno Tessi, ti ha golden LIP che fanno Certità? E' un altro? Certità? 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 Cosa ha detto dei miei occhi? Certità? Cosa ha detto dei miei occhi? Certità? E' caldo e te lo dico io? Certità? Non mi ricordo... ... ... ... ... ... guarda le gambe... guarda le tue braccia... guarda le tue gambe... guarda le tue braccia... guarda le tue gambe...Coc' certo compte 30 anni... non c'è qualcosa più da bene, non c'è nulla più da bene e tu usi la schiena quando ti ai dieci sulle braccia e sulle gambe non usi nulla è odio, è matematico perché i gambe si avrono già più più e ve ne aggaccio si rompe anche a guida e quindi c'è fattuto da piano, 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 piano e quant'è boi, il distezzo? bianne! ma tipo! poi voi bene, tu è nato guardate me potrò tornare qua perché ero scontata e cambia la macchina adesso scelgo, accendo la macchina, vado a casa tutti, fai di tre ginnastica, vai con le macchina, vai di là, vai di là, ginnastica uno a due, uno a due, uno a due uno a due uno a due uno a due, uno a due, uno a due devo andare a lasciare, guarda, vai, vado a casa, giogo la macchina, vado a fare piccambia e io l'ho provato tutto 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 devo andare a provare l'ultima sinistra non lo so, è lo tanto, non lo so cessica Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.